Alessandro Ianni, ad un mese quasi dalle elezioni si è insediato il sindaco, si è insediato anche il Consiglio Comunale. Cosa rimane della sua esperienza come candidato a sindaco? Intanto parlarne ad un mese dalle elezioni è utile perché subito dopo si hanno delle reazioni e non delle analisi critiche. Devo dire che per quanto ci riguarda non abbiamo avuto reazioni, abbiamo subito fatto delle analisi. La nostra esperienza è stata molto positiva perché io ritengo che qualsiasi risultato ha un valore. Il problema è un altro, il problema è adesso cercare di valorizzare al massimo questo risultato che si è ottenuto in altre esperienze. Noi ci siamo sperimentati, abbiamo imparato ad essere più ricettivi nei confronti della collettività e quindi continueremo ancora quell'attività di civismo di cui secondo noi ha bisogno Bagheria perché il nostro è un civismo puro. La nostra, se vogliamo, era l'unica vera novità di questa campagna elettorale perché ci siamo occupati di temi fondamentali della società che poi sono i temi di tutti i giorni. Se apriamo un giornale sentiamo parlare di ritorno dell'agricoltura, di imprenditoria agricola femminile, di temi che riguardano l'ecologia, sentiamo parlare di start-up e questi erano i nostri temi. Possiamo dire che Bagheria non ha capito la sua candidatura? Non esattamente Bagheria. Secondo noi il problema non è stato il popolo perché il popolo di fronte al bisogno cede. È chiaro che chi è legato al bisogno cede di fronte alla promessa. Il problema invece è stato quel ceto che io definirei illuminato, fatto di professori universitari, fatto di professionisti, fatto di amministratori, fatto di rappresentanti delle istituzioni che in un primo momento erano venuti ad incoraggiare questa candidatura. Però al momento opportuno hanno ritenuto rifugiarsi nel porto sicuro per tutelare i loro piccoli privilegi. E questo è un fatto negativo perché non parliamo di persone legate al bisogno, ma parliamo di gente che appunto sente ancora la necessità di tutelare questi piccoli privilegi. E allora se non si ha il coraggio di sostenere un movimento innovativo, un movimento che realmente può creare sviluppo per la città, ci troviamo di fronte a una società bloccata, cioè a una società che ancora preferisce il vecchio sistema, che preferisce il sistema clienterare, cosa che noi non avevamo ma che comunque non avremmo seguito. E allora in quel momento cosa potevamo fare? In quel momento, siccome a noi il coraggio non manca, abbiamo deciso di andare avanti. E continueremo portando avanti questo civismo puro perché ci crediamo, continuiamo a crederci e ci rendiamo conto che è quello di cui ha bisogno la società. È ipotizzabile fra cinque anni una sua nuova candidatura a sindaco? Non lo escludiamo. Non lo escludiamo e però dipende sempre dalla ricettività che questo modello, a cui noi non rinunciamo, ha in quel ceto illuminato di cui parlavo poco fa. Perché non è il popolo che deve trainare la società. La società viene trainata proprio da queste persone che rappresentano la punta massima. E allora se questa gente con coraggio riesce a sostenere e a rafforzare questo modello innovativo, poi viene presentato, viene prospettato al popolo e il popolo non può fare altro che seguirlo. Ma se noi al popolo offriamo soltanto alcuni schemi e non diamo la possibilità di scegliere, è chiaro che la gente viene attratta da quello che tecnicamente è il modello più forte. Cosa augura al sindaco di Bageria, Filippo Tripoli? Allora, noi stiamo aspettando, come è giusto che sia, un po' di tempo. I primi sei, sette mesi di solito si attendono per capire se questa amministrazione produrrà risultati concreti. E solo in quel momento saremo i primi a fare le congratulazioni al sindaco e alla nuova giunta. Invece a Bageria cosa augura? Bageria ha bisogno di tutto. Bageria ha bisogno di quelli che erano i nostri temi, Bageria ha bisogno fondamentalmente di lavoro, Bageria ha bisogno di legalità e Bageria ha bisogno di servizi. Quindi penso che la gente si augura nel più breve tempo possibile che almeno i servizi primari vengano garantiti. Bageria ha bisogno di essere qui. Grazie a tutti.